Sven Dasmussen, uno dei grandi padri del jazz europeo, accolto con grande entusiasmo dai suoi concittadini di Copenhagen effettivamente, 83 anni, ancora in gran forma, violinista, anche cantante, grande intrattenitore. Sta presentando il suo gruppo, in particolare il suo contrabassista. Ora tocca al batterista, che suona al conservatorio, ma è anche, anche se ha avuto questa sventura, un bravissimo ragazzo. Alla chitarra, una giovane stella. Questo è il gruppo che accompagna il grande Sven Dasmussen. Che dopo aver suonato il God Rhythm, suona in sentimental mood. Alla chitarra, una giovane stella. Che dopo aver suonato il mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.